Dieci giorni al ballottaggio. Da una parte Marcello Massucco, centro-sinistra, espressione della giunta uscente, su eventuali apparentamenti non si sbilancia. Nel confronto tv di Telepace spiega di aver colto sensibilità vicine nei programmi di altri candidati. Ragionamenti sono in corso, dice, li concretizzeremo nei prossimi giorni. Dall'altra parte Francesco Solinas, centrodestra non ufficiale, non dei partiti, l'outsider. Parlando ai nostri microfoni esprime una valutazione positiva del risultato del primo turno, afferma di avvertire una volontà dei sestresi di cambiamento e ritiene che non ci sia una divisione tra gli elettori di Pistacchi e i suoi. Su Telepace Massucco e Solinas discutono di occupazione, famiglia, giovani, legalità e sicurezza. L'ultima domanda non è stata scritta dalla nostra redazione. Abbiamo lasciato che ciascun candidato ne rivolgesse una all'avversario. Massucco si è concentrato sul futuro delle scelte di Solinas. Ricordo Claudio Muzio cinque anni fa che diceva a Sestri Levante ci sono due cose da fare in campagna elettorale. Chiudere una cosa, mediaterraneo, cioè la promozione turistica e culturale del territorio, e riaprire un'altra, ossia la strada attraverso il parco Mandela. Vorrei capire la credibilità che si può avere quando le persone sono state quelle che hanno smontato in cinque anni tutti i percorsi che si sono fatte ed è chiaramente l'impronta della destra che ha sempre avuto a Sestri Levante. Solinas invece è tornato sull'IVA non pagata da mediaterraneo e sul verbale notificato dalla finanza. Eventualmente da sindaco di Sestri Levante come intende gestire questa situazione nei confronti di quello che era l'amministratore di mediaterraneo che sarebbe il nuovo sindaco. Quindi avremmo questa situazione dove il sindaco sarebbe chiamato a fare delle azioni e a valutare l'azione dell'amministratore di mediaterraneo che è la stessa persona. Per assistere al confronto e ascoltare le risposte dei due candidati, appuntamento al direttamente su questa sera alle ore 21 sul canale 12.